buonasera a tutti benvenuti nel mio laboratorio come forse molti soprano e la mia vita si divide tra musica e altro gran parte di questo altro è la legatoria di libri io sono diplomata al restauro quindi rilego libri tesi di laurea diari agende oppure album fotografici e anche se c'è bisogno restauro i libri e riparo i libri dei vostri antenati non faccio mai video dal laboratorio tant'è vero tanti non sanno neanche che io ancora prima di essere di essere stata musicista ero relegatrice ai libri però magari questo sarà il primo di una lunga serie tra l'altro non sono neanche tanto organizzata perché in questo momento il telefono è in equilibrio su uno scaleo e con la musica sono molto più organizzata ebbene stasera ero qui che rilegavo un paio di libricini su commissione e mi è venuta la voglia di fare questo video allora normalmente io rilego cose molto classiche per cui cartone rigido a volte legno come copertina oppure ci metto la similpelle ci metto da tela e oggi invece ho fatto un paio di librettini su commissione perché un cliente mi ha portato un vecchio suo libricino un vecchio suo diario asserendo che l'avessi fatto io e chiedendomene un uguale ora io sono quasi sicura che non l'ho fatto io leonardo mi dispiace però ho cercato di farne mio meglio per farne uno simile come formato e anche come legatura e mi ha dato soddisfazione per cui sono qui che condivido questo risultato insieme a voi ed eccolo qua un librettino molto semplice ma nella sua semplicità zen quasi mi ha dato molta soddisfazione è morbido io non ne faccio mai le cose morbide però questo è venuto bene quindi si può mettere in tasca formato piccolo ora qui si vi sembra enorme ecco me lo metto accanto la testa si vede piccolino quindi può stare in una tasca così lo portate sempre con voi e appena gli viene un'idea la scrivete invece di scriverla su un cloud che poi ve la rubano questo similpelle in questo caso similpelle si vede un po alla luce è similpelle goffrata c'è anche liscia e c'è anche l'effetto cuoio che è molto carino chiaramente tutto ecopelle perché come voi sapete io le cose di animali morti non ve le faccio quindi ve le faccio di tela ve le faccio di similpelle ve le faccio di carta di cartone quello che volete di stoffa ma le cose di animali morti non le faccio per cui ma da soddisfazione è carino e agide si si fa molto bene si fa velocemente il risultato è carino per cui se lo volete anche voi anche altri formati altri interni da queste righe per esempio però ce l'ho anche a quadretti e anche liscio diversi colori quindi se vi piace ve lo faccio prima che mi passi la voglia di lavorare a questo a questo progetto potete prenotare al negozio oppure scrivetemi a me ok ciao